Ciao a tutti ragazzi mt sul canale radio dopo il primo episodio una partita una formazione che vince andiamo a giocare contro la Fiorentina per Sanchez per Luca 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 con lo dia screnger 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 ah beh sta screnger screnger per ora hanno segnato soltanto due gol di di l'autaro e uno di uno di quel screnger l'autaro 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 screnger per se screnger 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 schiena ancora per lui però per l'autorio da l'opposizione di l'autorio però santa 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 lukaku biragi biragi per schiena vecino sensi lukaku 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 biragi 2 al 0 in 26 minuti bu nasıl ne anda batı adını per la taro no 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 Ancora l'autoro Oh! Poi benassi Ah si Dalla Dalla Forlina attacca Dalla Dalla Qui sono Una Questa c'è Abbiamo Una Questa ところ Ah Questa in questa stagione per lo toro lukaku lukaku blu kaku sanchez eeeh. te la ciano la blocca eeeh 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 Sanchez l'ha de Venegro Il cross Odra che l'ha spazio Per Lukaku Fini al primo tempo Ragazzi Che durato 6-6 minuti Mamma mia Ora che ha stoppato Mamma mia Siamo scuota un po' Io per Barello Barello Per Sanchez Per Andanish Andanish Attenzione Qua c'è Andanish Attenzione Attenzione Porta libera Non tirare Non segnalo tu Andai a tirare Per Lukaku Lukaku Vecino Laptaro Vecino Vecino Ti tiro Lukaku Che lascia la La Crust Palo Mamma mia Ragazzi Ancora A tenaciano Ragazzi Mamma mia Mamma io Amma Vecino Amma Bermin Lataro L'ho Mazzano L'ho 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 per 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 il signo sanchez 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 ecco il quattro il matrimonio del interno ma perchè non mi chiamava qua mi chiamava l'autore sanchez 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 progettino l'autore del cuore c'è luca con luca con luca con luca con luca con il tiro di luca con di poco grazie ... c'è il che dif обще del cuore il il c'è il ce il lupico putём capi di a tronacchia io voglio te io come cam è molto sanchez per l'autaro lukaku lukaku poi tiro te la c'è ancora mamma mia ragazzi che pescono tempo l'inter molto molto bene il partito dai 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 non c'è caccio riguardo come una cosa nella speciale video centrale stiamo in centrale fino a che non sbaglio il lotto da semi centrale riguardo pezzino è stato è stato il lotto pezzino su riguardo pezzino è il è il quinto mamma marcatore lukaku per l'autore sanchez sanchez san sanchez terraciano lukaku 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 per l'azzo lukaku lukaku te lasciami ancora grossi euro hand pedro pedro credo credo pedro 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 ma Andri il giugno ci dotci del piede verra con il video finisci veniamo chi consigliato assina tubi da chi scrive sino sanchez luca e lontano una gaga come si siamo oh, oh, prima non andiamo con l'acqua, è stato fatto prima 0,8 3,6,9 3,6,9 3,6,9 3,6,9,3 3,6,9 3,6,9 3,6,9 3,6,9 3,6,9 3,6,9 3,6,9 4,6,9 4,6,9 5,9 5,9 5,9 6,9 6,9 6,9 6,9